Ciao amici, oggi consigli per gli acquisti. Vi consiglio, io gioco, abbonarvi o comprarlo, quanti meno. Ovviamente la domanda nel titolo era retorica, la risposta è sì, vale la pena ovviamente abbonarsi. 6,90€ esce ogni due mesi. Che cos'è io gioco? È la rivista di The Game Machine, famosa rivista di videogiochi italiana. Siamo arrivati al numero 19, che è quello di questo mese, di questi due mesi. Che cos'è io gioco? Allora, è una rivista che si rivolge principalmente ad appassionati di giochi da tavolo, di ruolo, libro game anche. Quindi ovviamente, vabbè, se non ve ne frega niente non abbonatevi, mi sembra evidente. Perché ve la consiglio? Forse non la conoscete, perché effettivamente è difficile da trovare nell'edicole. Nel senso che bisogna richiederla, ma una volta che la richiedete in edicola, poi arriverà sempre in quell'edicola lì, e quindi divulgerete anche voi un po' i giochi da tavolo, se lo volete fare. Che cosa contiene? Allora, contiene recensioni di giochi che stanno per uscire o che sono già usciti. Contiene nuovo materiale per altri giochi. C'è sempre un'avventura di un gioco di ruolo, c'è sempre un gioco aggiuntivo, come in questo caso, in questo numero. Abbiamo dentro, attenzione, c'è Exploding Kitten, avete presente il gioco Exploding Kitten per due persone, quindi la versione introduttiva, gratuita, compresa nel prezzo. Poi c'è sempre di tutto, ci sono sempre i consigli di Sage Advice di Zoltan, non so se avete presente, che sono i consigli per D&D, ad esempio quelli di questo mese sono molto interessanti, e sono sul giocare a D&D in due persone. Adesso se le trovo ve li faccio vedere. Comunque sia... Anche solo per questi... Anche se che è solo per questo articolo di Zoltan dovreste comprarlo. Non so se sapete chi è Zoltan, nel caso cercate Sage Advice su Google, se ovviamente siete dei giocatori di D&D. In più contiene un po', diciamo, sostanzialmente un po' di divulgazione del mondo dei giochi e della progettazione dei giochi, quindi ci sono sempre intervisti d'autori, si scoprono un sacco di cose interessanti. Ci sono spesso delle sorte di monografie, diciamo, per autore o monografie per genere, quindi ad esempio in questo numero ci sono i giochi di Escape Room, e ti parla di un po' tutti i tipi di Escape Room game da tavolo che esistono, se vale la pena comprarli, non vale la pena comprarli, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi supportate YoJoco se volete sostanzialmente divulgare, cioè aumentare il numero di persone che lo possono leggere e quindi possono appassionarsi i giochi da tavolo. Ovviamente YoJoco non mi dà un euro, anzi se mi vuoi regalare un abbonamento solo qui. Niente, questo era il consiglio rapido. Vi consiglierò una rivista, appena mi arriva il nuovo numero, però che non mi è ancora arrivato, che non c'entra con i giochi. Ciao!